Ciao fiocchi! Ah, non apro nemmeno il pacchetto oggi perché non sono più stronzo. Allora, oggi parliamo di giochi da tavolo imprescindibili, c'è giochi che dovete conoscere assolutamente, se non li conoscete siete stronzi. E non parlo dei classici tipo... beh ce ne ho qua uno. Dov'è? Cluedo. Risico Monopoli, sono giochi di merda. Buttateli se ce li avete, io non so perché li tengo ancora. Fanno cagare, quindi lasciamo stare. Andiamo a parlare dei giochi seri, che non è detto che non siano classici, perché in verità il primo gioco che vi presento è questo. Se non l'avete mai provato, provatelo, si trova ovunque. Ravensburger, labirinto magico, labirinto, ce ne sono 240 versioni, anche di Star Wars se volete. Perché dovete conoscerlo? Perché è indispensabile conoscerlo. Perché è indispensabile conoscerlo? Perché è divertente in questo caso ed è la storia dei giochi da tavolo. È un gioco che ha ispirato tanti altri giochi, uno ve lo faccio vedere tra poco. Purtroppo smarmella ancora l'immagine, io ve lo dico, non riesco a risolverlo, cerco di ridurlo al minimo comunque. Qual è lo scopo di questo video? Voi lo guardate e dite, ah ho sentito parlare di quel gioco lì ma non l'ho mai comprato, non l'ho mai provato, un mio amico ce l'ha ma non l'ho mai giocato. Giocatelo, provatelo, compratelo. Perché è la base, poi dite non mi piace, però è come un disco, un libro base che tutti devono aver letto, aver sentito, visto il film, ok? Perché altrimenti non possiamo parlare del stesso argomento, cioè non potete dire mi piace tantissimo terra mistica e non avete mai giocato da agricola, cioè siete stronzi. Avete tempo per recuperare? Sì. Allora, partiamo con i primi giochi che chiameremo giochi classici, cioè instant classic ormai, cioè quei giochi che sono proprio la base del game design moderno, ok? Partiamo con Star Trek Catan, no non è vero, Catan normale, Star Trek Catan in questo caso, ma è Catan normale, che purtroppo non ho. Giochi uniti, costava pochissimo. Qual è lo scopo del gioco? Avete una mappa che viene generata casualmente ogni volta, dovete costruire strade ed edifici, dopo aver costruito strade ed edifici, lanciate i dadi, che vi faranno prendere dei nuovi materiali con i quali costruirete altre cose, eccetera eccetera. Esistono un milione di varianti, c'è anche la versione medievale, la versione preferita ai coloni d'America, un miliardo di espansioni, quella che volete, prendete quella che volete. È la base. La componente aleatoria è molto elevata in questo gioco, quindi potrebbe farvi storcere il naso, ma se vi piace risico, non rompete il cazzo. Fine. Compratelo, è indispensabile. Dopodiché, mio gioco preferito, primo gioco moderno che ho comprato, edizione gigantesca, Carcassonne Big Box, come si fa così? Carcassonne Big Box, o Carcassonne normale, adesso non esiste più questa edizione qui, l'ho pagata 40€, c'è dentro 4 espansioni. È semplicemente il mio gioco preferito, insomma. Non è il miglior gioco mai fatto, adesso vi faccio vedere qual è. Secondo me è il miglior German mai fatto. Poi su che cos'è un German ne parleremo magari. Per adesso lasciamo stare. Comunque sia quello è lo scopo di Carcassonne, costruire una mappa utilizzando delle tesserine, che vengono aggiunte di espansione in espansione, sono molto belle. Fare punti mettendo degli omini all'interno. Il gioco è molto semplice, si spiega in 4 secondi, potete giocarci con i bambini, come anche Catan e con tutti quelli di questo stile che vi faccio vedere. Potete giocarci sia con un bambino che con un campione mondiale. Il gioco sarà completamente diverso una volta e l'altra, quindi dovete conoscerlo assolutamente. E questo era quello che dicevo, che prende un po' ispirazione dal laberinto, anche se non è proprio così, ma molto bello. Dopodiché continuiamo con Ticket to Ride. In questo caso Europa, ma secondo me non è il migliore. Il migliore è Ticket to Ride America, il primo. Anche di questo ne esistono 500 miliardi di tipi. Secondo me prendete il base, quello che si chiama Ticket to Ride e basta, con la mappa americana. È il migliore, mai fatto. Qual è lo scopo del gioco? Costruire le ferrovie, collegare vari punti della mappa e danneggiare gli altri, che è una delle cose più divertenti, secondo me, di questo gioco. Se giocate ovviamente in maniera non competitiva. Se giocate in maniera competitiva invece diventa molto complesso. Tutti questi sono ad alto livello, si possono giocare ad alto livello. Nel senso che si vede la differenza tra uno bravo e uno no. Vero risico, vero monopoli. Il gioco deloca, praticamente. Senza praticamente. Dopodiché, miglior gioco invece German mai fatto di questo stile classico, Puerto Rico. Si vede? Puerto Rico, sempre giochi uniti, anche questo. Sono tutti giochi uniti? No, Ticket to Ride e Asmody. Puerto Rico, qual è lo scopo del gioco di Puerto Rico? Commerciare. Principalmente materiali che sono presenti a Puerto Rico. È un gioco, anche in questo caso, già un po' più complesso degli altri e delle regole un po' più fini. Molto bello, comunque sia. La parte più divertente è rubare i personaggi e gli altri giocatori. Sempre molto divertente. Quindi tutti questi giochi, soprattutto Ticket to Ride. Ma anche Carcassonne. Sono molto divertenti se ci giocate con la fidanzata barra o barra asterisco. Tutte quelle roli. Perché vi litigate come degli ossessi. Ultimo gioco che ormai è un classico. Vabbè. Non è... È un party game, in verità. Però non potete non giocarlo, non potete non conoscerlo. È Dixit. Questa è edizione Odyssey. Ma c'è anche edizione normale. Odyssey semplicemente per 12 persone. Quello normale è 6, forse. Scopo del gioco. Avete una carta, un'immagine molto particolare. Sono molto molto belle queste. In base all'espansione potete aggiungere... In base all'espansione le aggiungete e le togliete. Lo scopo del gioco è dire a turno. Si dice una parola associata a un'immagine che avete in mano. La mettete giù coperta. E la stessa cosa fanno gli altri giocatori. Lo scopo del gioco è indovinare chi è l'originale. Cioè qual è l'immagine originale del primo giocatore. Quindi gli altri devono un po' truffare. Secondo me è molto bello. Non so spiegare assolutamente Dixit. È bello. Questo ovviamente è un gioco più leggero. Non è competitivo in questo caso. Andiamo invece. Saliamo di livello. Saliamo di livello. Parliamo di un gioco german. Competitivo. Mi direte perché non hai messo Terra Mystica. Hai scelto proprio qui. Edizione Uplay Agricola. Questo indispensabile. Da conoscere. Perché è indispensabile da conoscere Agricola? Perché questo è davvero complesso. E voi direte beh non è una cosa buona. Ma è molto profondo. Cioè voi fate una partita e dite ok ho capito un decimo del gioco. Ne fate due. Due decimi del gioco. Ne fate tre. Siete ancora due decimi. È difficile. È difficile. Ma vi dà un sacco di soddisfazioni. Perché vedete proprio il miglioramento di partita in partita. Capito? Ogni volta qualcosa di più. Stessa cosa vale per Terra Mystica. Avrei potuto farvi vedere quello. Secondo me Agricola meglio da questo punto di vista. Forse è un po' più semplice. Qual è lo scopo del gioco di Agricola? Gestire un territorio. Ok. Avete una fattoria. E dovete fare figli. Piantare il grano. Raccogliere il grano. Piantare le mucche. Raccogliere le mucche. Eccetera eccetera eccetera. È un gioco abbastanza solitario effettivamente. Rispetto magari ad altri a poca interazione. E questo forse è un male. Ma anche Terra Mystica ha lo stesso problema. Di questi giochi qua che vengono definiti in gergo cinghialoni. German. Comunque sia assolutamente indispensabile. Ora invece siamo saliti di livello e di difficoltà. Scendiamo. Andiamo su qualche party game che vi consiglio. Allora partiamo con. Masquerade. Masquerade costa pochissimo. Questa è l'edizione. Ho dentro anche un'espansione. Molto divertente. Lo scopo del gioco è. Avete delle carte che vi danno un ruolo. E con il ruolo potete fare una certa azione. Però nessuno sa che ruolo avete voi. E dovete fintare per tutta la partita. E scambiarvi i ruoli per tutta la partita. Per rendere il gioco divertente. E fare più soldi degli altri. Si può giocare fino a 13 persone. Quindi un party game per quando siete in tanti. Ovviamente giocare in due non ha senso. Come anche un po' di exit. E come tutti quelli che vi faccio vedere. Che chiamiamo party game. Dovete essere almeno 8. Ok? Se no non sono grandemente divertenti. Giocate a qualcos'altro. Se siete in meno di 8. Ah tra l'altro Carcassonne. Si può giocare fino a 8 persone. Le divisioni big box. Quindi top. E scala benissimo. In 2 scala in 3, 4, 5. Cosa vuol dire scala? Quanto è divertente il gioco? In 2, 3, 4 giocatori. Carcassonne secondo me scala benissimo anche da soli. Perfetto. No, non questo. Questo lo faccio vedere dopo. Plagio. Edizione i giochi uniti. Questo è molto divertente. Simile ad exit come idea. Bisogna fare la stessa cosa. Ma invece che con le immagini. Dovete farlo con le frasi dei libri. All'interno ci sono un sacco di frasi dei libri lasciate a metà. Con scritto l'autore, eccetera, eccetera. Voi dovete completare, secondo voi, in base a come va a finire la frase. Molto particolare. Se giocate in tanti è difficile. Lo scopo dei giocatori ovviamente è indovinare qual è il completamento originale. È difficile se giocate in tanti. Lo stesso gioco si può fare con un dizionario. Per esempio un dizionario fate la stessa cosa con le parole difficili. Ma questo plagio è bello, molto interessante. Ovviamente dovete giocarci con qualcuno che conosce i libri. Se no, non gli piacerà. Ultimo che vi consiglio, che secondo me è anche il migliore. Avalon The Resistance. In questo caso Raven. Simile a Lupus in Fabula. Se avete idea di come funziona Lupus in Fabula. Quindi ci sono due fazioni, buoni e cattivi. Lo scopo del gioco. E, ok, ovviamente... Beh, è come il lupo. Quindi ci sono... C'è Merlino, in questo caso, che è una fazione. Poi c'è il nemico, che non mi ricordo come si chiama. E dovete... Sostanzialmente i buoni devono scoprire che sono i cattivi. I cattivi non devono farsi scoprire. Mettiamolo così. Secondo me però supera i problemi di Lupus in Fabula. Sono le robe tipo che c'è il Master che deve essere particolarmente bravo, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso è fatto molto bene, è organizzato molto bene. Migliore di Lupus sotto tutti gli aspetti. Anche quello però effettivamente, se non avete lupus in Fabula, provatelo. Effettivamente non ce l'ho però io da farvi vedere. Ok, abbiamo finito. Abbiamo visto i classici, i classici più difficili. Abbiamo visto i party game indispensabili. Avrei potuto farvi vedere anche nome in codice, forse. Sì. Ah, tra i classici ne ho dimenticato uno, che però non ho. Che si chiama Alta Tensione, secondo me è insieme a Puerto Rico il migliore mai fatto. Comunque sia. Andiamo su invece qualche consiglio così aggiuntivo che vi lascio alla fine di questo video. Cioè quei giochi che non sono ancora classici magari, ma sono comunque molto belli. Partiamo con... Azul. Oh, questo è bellissimo. Bellissimo, questa edizione tarocchissime tedesca. No, non è tarocca, è originale, ma è in versione tedesca. Molto bello. Qual è lo scopo del gioco? È sempre un German, ok? Quindi con polenta aleatoria molto bassa. Vi faccio vedere la cosa più bella di questo gioco, la cosa più soddisfacente, che me l'ha fatto preferire a Sagrada, che è un gioco molto simile, ma con i dadi. In questo caso invece avete questi tiles, queste tesserine, piastrelle, chiamatele come volete. Ve le faccio vedere perché sono molto belle, ma soprattutto molto soddisfacenti. Ah, sono proprio belle, vedete, questi pezzettini di plastica, rossi, sono di varie fogge. Ok, sono tutti molto belli. Lo scopo del gioco è costruire il vostro muro. Ok? Che sia il più bello possibile. No, non è la bellezza, è il punto che vi farà vincere. Quello che vi fa vincere è, quanto siete più bravi degli altri, a posizionarli nella maniera corretta, a prendere le tessere nel momento giusto. Sembra semplice, è molto difficile vincere. Però non è ancora un classico questo, quindi ve lo consiglio ora. Compratelo per il futuro, questo sarà sicuramente un classico del futuro, insomma. Prima o poi lo diventerà. Altro gioco. Altro gioco. Ah, Stone Age. Questo è edizione decimo anniversario, potete comprare anche la versione base, c'è anche un'espansione che non ho però. Edizione decimo anniversario, semplicemente le componenti più belle. Come si vede da qualche parte? No, non si vede. Edizione limitata con la fiamma, con il fuoco. Scopo del gioco, simile ad agricolo, a gestire in questo caso, però il vostro villaggio dell'età della pietra. Come fate per farlo? Dovrete lanciare dei dadi, generare oggetti, scambiarvi oggetti. Molto interessante, potete giocarci anche con i bambini, perché è molto semplice. C'è anche la versione per bambini, come per quasi tutti gli altri che vi ho fatto vedere. E questo diventerà sicuramente un classico, perché ha delle dinamiche interne un po' così particolari, che non si ritrovano in altri. Poi c'è un altro gioco di cui non vi ho parlato, che è Dominion. È importante perché è un gioco di carte, ma al momento non ce l'ho qua. Quindi niente. Basta, vi ho parlato di tutti i giochi? Sì, mi sa che vi ho parlato di tutti i giochi. Quindi, la prossima volta forse parliamo di dischi imprescindibili, invece. Quindi, mi raccomando, se non avete comprato questi giochi, comprateli. Se ne avete altri da consigliare, che secondo voi sono indispensabili, fatelo. Non ho parlato di giochi non German, per ovvi motivi. Magari ne parleremo un'altra volta, comunque sia. O comunque avevo parlato di party game. Allora, noi ci vediamo la prossima volta parlando di dischi. Quindi, finalmente, un po' di musica. Torno su questo canale. Niente. Arrivederci.